Buongiorno bambini, come state? Spero bene. Eccoci giunti ad un altro appuntamento via video, così possiamo andare avanti con la nostra storia. Direi di fare più o meno come sempre un breve ripasso, poi facciamo la correzione degli esercizi e andiamo un po' avanti, perché come vi avevo detto questa storia nella famiglia di Abramo sarà abbastanza lunga, anche se non manca più tantissimo, ma abbiamo ancora un pezzettino. Vi ricordate che la scorsa volta abbiamo raccontato una storia abbastanza particolare? Abbiamo visto come Isacco, vi ricordate il figlio di Abramo, diventato grande, sposa una donna che si chiama Rebecca e con lei ha due gemelli, Esau e Giacobbe. Abbiamo visto come Esau, essendo il più grande, avrebbe dovuto ad un certo punto diventare il capo della famiglia, il capo del popolo, ma Giacobbe si dimostra fin da subito, diciamo così, migliore sotto diversi aspetti. Abbiamo visto come fosse più intelligente, più sensibile, più colto, più gentile, più intraprendente, insomma, era migliore sotto diversi punti di vista. E allora Giacobbe, insieme a sua mamma Rebecca, escogitano diversi inganni, tant'è che Giacobbe riuscirà a ricevere la benedizione del padre e diventare lui il capo della famiglia e il capo del popolo, anche se Esau, arrabbiato, lo caccerà. Questo era un po' il percorso che abbiamo fatto la scorsa volta. Come esercizio vi avevo dato da compilare pagina 70, in cui ci erano illustrati più o meno gli inganni che Giacobbe aveva compiuto contro Esau. Il primo, ve lo ricordate, l'avevamo raccontato, rappresentava il ritorno dalla caccia di Esau e Giacobbe che lo inganna dicendogli se mi cedi di poter essere io il padrone del popolo, io in cambio ti do un buon pasto. Ed Esau casca in questo inganno. Ed era appunto il primo disegno di pagina 70. Il secondo invece era quello della benedizione, perché a un certo punto, vi ricordate, Esau va da Giacobbe e gli dice guarda ci ho ripensato, voglio comunque essere io il capo del popolo. E allora Giacobbe fa un altro inganno ancora peggiore, cioè si traveste da Esau e ottiene così la benedizione del papà Isacco. Mentre l'ultima scena è proprio Giacobbe che scappa proprio per la paura di Esau, perché comunque aveva paura che Esau potesse magari fargli del male per questo inganno. Noi ci eravamo fermati qua. Abbiamo fatto un ripasso veramente velocissimo e andiamo avanti da questa storia. Cosa succede? Giacobbe si allontana dalla terra in cui viveva insieme a Esau, insieme ad Isacco. Vi ricordate si chiamava la terra di Canaan e una notte fa un sogno. In questo sogno vede una scala che arriva proprio nel cielo con intorno tutti degli angeli. Ad un certo punto sente una voce che gli dice Giacobbe Tu avrai una discendenza numerosa quanti granelli di polvere sulla terra. Vi ricorda qualcosa questo? A me sì. Ricorda quando Dio disse ad Abramo Avrai una discendenza numerosa come le stelle del cielo e i granelli di sabbia nel deserto. Nel sogno la voce continua a parlare e dice a Giacobbe Tu devi tornare a Canaan anche se c'è Esau e io ti proteggerò. Allora Giacobbe prende i suoi bagagli prende un po' di roba e si incammina verso Canaan. Durante la strada incontra un uomo litigano e a un certo punto lui chiede a quest'uomo dopo averlo picchiato e sconfitto il suo nome e quest'uomo scappa via non gli risponde. sente di nuovo una voce che gli dice Giacobbe da ora in poi ti chiamerai Israele. In realtà stiamo attenti su questo passaggio cerco di spiegarvelo un po' meglio perché non è facilissimo. Se noi leggiamo la Bibbia la voce dice tu hai lottato con Dio e hai vinto quindi non ti chiamerai più Giacobbe ma Israele. È un passaggio difficilissimo. In realtà la Bibbia non è che ci sta dicendo mentre Giacobbe camminava tutto tranquillo per la strada ha incontrato Dio e si sono menati. Non avrebbe senso, no? Perché se uno incontrasse Dio per la strada dovrebbe picchiarlo e più che altro come farebbe un uomo a vincere Dio? Non ha senso. In realtà è una metafora. Metafora cioè ci racconta un qualcosa paragonandolo a qualcun altro. Semplicemente Dio dice Giacobbe tu hai dovuto affrontare nella tua vita tante cose difficili ma le hai superate. io ti ho aiutato e tu le hai superate. Allora da oggi ti chiamerai Israele. Cambio di nome. Vi ricordate? Era successo ad Abram che era diventato Abramo era successo a Sarai che è diventata Sara più avanti quando tanto più avanti arriverà Gesù succederà l'Apostolo Pietro che da Simone diventa Pietro e io vi avevo detto che nella Bibbia tutte le volte che a qualcuno viene cambiato il nome significa che quel personaggio lì sarà molto importante e infatti Giacobbe ora diventato Israele sarà importantissimo. Andando avanti con la storia Giacobbe cioè Israele riesce a tornare nella terra di Canaan riesce a far pace con suo fratello Esau gli chiede scusa ovviamente per tutti gli inganni in cui aveva tratto Esau gli spiega un po' la situazione riescono a trovare un accordo e Giacobbe pensate avrà dodici figli tantissimi vi anticipo uno di questi figli di cui poi parleremo ma facciamo proprio giusto un anticipo avrà appunto dodici figli il più piccolo avuto quando ormai Giacobbe era quasi anziano si chiamerà Giuseppe questo Giuseppe sarà un bambino molto speciale tant'è che Giacobbe da sempre ha un occhio di riguardo per lui questo bambino fin da piccolo fa dei sogni molto speciali pensate che un giorno va dai suoi fratelli quindi undici fratelli e dice ah non sapete cosa ho sognato stanotte ho sognato che io ero una stella bellissima luminosa grande e voi eravate delle stelline piccole che vi inchinavate di fronte a me poi ho sognato che ero una spiga di grano alta bella gialla e voi eravate tutte secche e vi inchinavate di fronte a me ma secondo voi se uno vi raccontasse un sogno del genere voi come reagireste? non tanto bene infatti i suoi undici fratelli si sono arrabbiati e hanno iniziato a dire tra loro ma questo qua che già è il preferito di nostro padre Giacobbe fa pure dei sogni in cui ci dice che lui vale tanto e noi valiamo poco perché ci inginocchiamo di fronte a lui a noi non piace allora lo prendono e pensate che cosa brutta fanno lo vendono a dei mercanti come schiavo gli tolgono la tunica la macchiano di sangue la portano a Giacobbe e gli dicono papà Giuseppe è morto è una cosa bruttissima e il loro ragionamento è se ci togliamo dai piedi Giuseppe ci togliamo un bel problema perché lui la smette di fare sogni in cui ci dice che noi non vogliamo niente e nostro padre la smette di preferire lui a noi ovviamente allora so che abbiamo messo di nuovo tanta carne al fuoco facciamo un recap di nuovo dei nomi vi ricordate eravamo partiti da Abramo Abramo che sposa Sara non riescono ad avere figli insieme ad Agar nasce Ismaele che poi vengono cacciati con Sara riuscirà invece ad avere Isacco Isacco sposa Rebecca nascono Esau e Giacobbe poi litigano gli inganni eccetera eccetera da Giacobbe nascono dodici figli il più piccolo si chiama Giuseppe allora per la prossima volta io vi lascio semplicemente da fare questo vi lascio da leggere pagina 77 e a pagina 77 vi chiedo anche di fare gli esercizi che ci sono qua in fondo gli esercizi 2-3 che sono abbastanza rapidi e poi vi lascio da leggere anche pagina 78 ma solamente la prima parte cioè leggete fino a fino a qua invece il titoletto Giuseppe interpreta in sogni da lì in poi non lo leggete ancora perché non lo abbiamo ancora raccontato quindi pagina 77 e pagina 78 invece sul libro degli esercizi non vi do nulla da fare per questa volta come sempre per qualsiasi problema mi potete contattare alla mia mail che è roberta.raspini chiocciola icsaluzzo.edu.it ciao a tutti e buon lavoro